Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi siamo a Fano, al Teatro della Fortuna, perché nella Sala Verdi si terrà il Consiglio Comunale monotematico in compagnia di studenti e studentesse fanesi insieme a tanti altri ospiti, perché oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Andiamo subito allora ad incontrare tutti gli ospiti e a sentire quanto hanno da dirci i protagonisti. Quando penso alla donna io penso a mia madre e quando uno pensa alla madre può pensarla male. Comunque sia, la penso giovane, la penso matura, la penso adulta. Allora questo ci fa l'antidoto a tante stupidaggini. Ma vorrei dire un altro pensiero. La violenza sulle donne c'è stata da tanto tempo, solo che oggi sta esplodendo. Io da vecchio prete vi racconto quattro eventi. Il primo evento mi sono accorto che la violenza veniva alle donne quando c'era il terziario, la gente che portava il lavoro a casa. Stessa cifra, e le sentivo nelle confessioni queste storie, stessa cifra, o ci stai o prendi la scarpa più difficile, ci vuole più tempo. Era violenza. Secondo, mi ricordo una scena di una persona giovane, bella, anche era quasi fidanzata all'epoca, adesso non esiste più fidanzamento. Viene, ero a Montegranaro a dire io con i miei genitori ho penato tanto a trovare lavoro, era commercialista. L'ho trovato, ma c'ho il capo ufficio che mi ricatta. Che faccio? Che faccio? Come fallo a dire i genitori? Era violenza terribile. Sensibilizzare contro la discriminazione, questo è lo scopo importante di questa giornata, Sindaco? Sì, dobbiamo dire che Fanno ha sempre vissuto questa giornata con grande partecipazione, con grande convinzione, consapevoli che la violenza sulle donne è inaccettabile. È qualcosa di orribile e incomprensibile, quindi convinti che questa giornata sia un'azione importante anche di sensibilizzazione, perché due sono gli elementi. Uno è quella culturale, di una consapevolezza del rispetto della persona e l'altro quella di trovare strumenti per tutelare le donne. Quest'anno diciamo che c'è una maggiore intensità perché ancora stiamo vivendo il lutto di questa perdita, di questa ferita che ha colpito la nostra comunità, la perdita di Anastasia, Anastasia come vi viene chiamata in Ucraina, che ci fa toccare da vicino perché molte volte quando pensiamo al peggio pensiamo che sia sempre lontano, invece è dietro l'angolo in ogni comunità. Per cui questa giornata non deve essere soltanto un rito ma deve essere un momento di sensibilizzazione ma anche di far capire le coscienze di tutti e far capire il valore del rispetto della persona, consapevoli che le differenze sono una ricchezza e non sono una preoccupazione. Comprendere che la violenza non rende virile l'uomo ma lo rende stupido e sciocco, per cui viviamo questa vita nel rispetto degli altri. Nel 1996 Vislava Zimbosca riceve il premio Nobel per la letteratura. Abbiamo scelto questa sua poesia, nulla due volte. Nulla due volte accade, ne accadrà. Per tale ragione nasciamo senza esperienza, moriamo senza suefazione. Anche agli allunni più ottosi della scuola del pianeta, direi Peter, non è dato la stagione del passato. Non c'è giorno che ritorni, non due notti uguali né due baci somiglianti né due sguardi tali e quali. Ieri, quando il tuo nome qualcuno ha pronunciato, mi è parso che una rosa sbocciasse sul selciato. Oggi, che stiamo insieme, ho rivolto gli occhi altrove. Una rosa? Ma cos'è? Forse pietra o forse fiore? Perché tu, ora malvagia, dai paura e incertezza? Ci sei, perciò devi passare, passerei inciosta alla bellezza. Cercheremo un'armonia, sorridenti fra le braccia, anche se siamo diversi come due gocci d'acqua. Grazie per l'attenzione. Consiglio comunale monotematico, come dicevamo, oggi per celebrare una giornata a livello internazionale. Sì, oggi è una giornata istituita poi nell'anno 1999, la giornata contro la violenza delle donne. Quindi è una giornata anche molto importante, giornata molto importante oggi e in particolare ha colpito anche la città di Fano, purtroppo di questi tristi eventi che ad oggi ne stanno succedendo quasi uno al giorno. Nelle Marche, solo dall'inizio dell'anno, cioè c'è solo molti, insomma, come regione anche quattro femminicidi. Quindi sono dei dati molto rilevanti che indicano uno stato di degrado, io penso anche della nostra società, sia a livello culturale, a livello di sentimenti. E quindi una cosa che dobbiamo sempre noi come amministrazioni, istituzioni e tutte le associazioni che intervengono in questo Consiglio comunale, non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai perdere di vista le problematiche delle donne e anche i piccoli segnali. Infatti io nel mio intervento quest'anno ho voluto focalizzare la violenza non solo fisica, ma anche la violenza psicologica, perché secondo me è un preallarme, diciamo, i primi avvisagli di quello che è i rapporti con l'uomo, con le persone, con i colleghi, anche nell'ambito del lavoro, perché la donna non solo subisce violenza nell'ambito della famiglia, ma anche nell'ambito del lavoro, nel fare difficoltà a trovarle, nelle tante, diciamo, tante difficoltà che incontra la donna. E quindi è un segnale, perché porta all'anniettamento della persona e di se stessa e quindi toglie anche la dignità personale e la forza di combattere contro le persone, la persona violenta che ha di fronte. Quindi è un tema sempre da non sottovalutare e di lavorarci giorno per giorno da parte a tutti i livelli dell'istituzione. Noi nemmeno anche dobbiamo considerare le persone che sono accanto, i familiari delle persone violentate, sia del violentato che del violentatore, perché purtroppo portano dispiacere in famiglia, ripercussioni nei figli e tante problematiche che poi diventa anche un problema sociale da dover affrontare da tutti noi. Quindi le istituzioni, le forze dell'ordine sono sempre a disposizione nella nostra piccola, nella nostra città per questo problema grave che purtroppo, nonostante siamo avanti con gli anni, culturalmente vedo che siamo molto ancora arretrati. Attraverso questi manifesti abbiamo deciso di comunicare il nostro dissenso nei confronti della violenza sulle donne. Questo lavoro è servito soprattutto a noi studenti maschi, ha rappresentato un lungo momento di riflessione, perché è facile cadere nell'ipocrisia, è facile parlare di un prodotto, fare considerazioni qui, oggi. Ma nel nostro piccolo può essere difficile applicare queste stesse riflessioni e quelle stesse parole riservate alle occasioni formali, come questa, e prenderne davvero atto tutti i giorni, nelle piccolezze quotidiane. Perché la violenza comincia dalle cose più piccole e più inaspettate. La grande lezione che abbiamo tratto da questo percorso è che abbiamo tutti una grande responsabilità. Adesso velocemente vi illustro questi manifesti. Il primo, notiamo questo simbolo, questo tacco rosso, che è un simbolo di questa giornata e che il tacco in sé rappresenta la femminilità. Questo tacco che è bloccato da questa mano maschile, che è un blocco del passo, è un blocco attengo. Il secondo manifesto, vediamo queste gambe di donne, con questo codice a barre, che sta a simbolizzare che le donne non sono un oggetto. Proseguendo il terzo manifesto, si nota questa catena, questa catena che rappresenta un rapporto tossico, che spesso si trasforma anche in un matrimonio. È questa gamba di questa donna che è bloccata. E c'è una scritta, freedom, libertà, che non a caso è tatuata in questa gamba, per rappresentare la libertà di fare quello che si vuole nel proprio corpo. E poi, il prossimo manifesto, si nota subito lo slogan, che tradotto significa parla, fallo finire. Perché la parola è una soluzione che si contrappone al silenzio. E quel disegno di quella donna, di cui la bocca è chiusa, con una zip, non cucita. Perché una zip si può aprire. E quindi si fa sempre in tempo a parlare. Assessora, una donna per le donne, non solo il 25 novembre. Direi di sì. Questo 25 novembre è particolarmente difficile per noi istituzioni, perché andare a parlare di quelle che sono le azioni a poco più di una settimana dal brutale femminicidio sicuramente ci mette in difficoltà e ci fa sentire anche in difetto, mi sento di dire. Perché non siamo riusciti, perché la comunità non è riuscita a fare abbastanza per evitare che questo avvenisse. Per cui sicuramente lo spirito che ci attraversa è questo. Però mi sento anche di dire che il Comune di Fano approccia a questo problema, a questa dinamica che non è sicuramente una dinamica emergenziale, ma è un fenomeno stabile, i cui numeri non accennano a diminuire. Ho visto il rapporto del Senato di femminicidio a livello nazionale, i numeri sono agghiaccianti e ci devono sicuramente far riflettere e ci impongono delle riflessioni a quali poi devono seguire delle azioni specifiche che possano lavorare su quello che è il fenomeno che muove queste azioni, che sono sicuramente un problema di ordine pubblico. Perché mi sento di dire che il femminicidio, che è un omicidio con caratteristiche specifiche nelle quali si uccide una donna perché è donna, per le sue caratteristiche che la rendono tale. Ecco, è un fenomeno sicuramente di ordine pubblico, ma ha delle radici profonde in un approccio culturale diffuso che va assolutamente cambiato. Per cui il Comune di Fano ricorda oggi in questo Consiglio comunale che domani compie un anno il servizio aperto e attivo qui nel nostro territorio, nel nostro Comune che è appunto Paricentro, un ufficio pubblico del Comune di Fano che collabora con diverse realtà associative, istituzionali e cooperative per mettere in piedi 365 giorni l'anno attività di divulgazione, sportelli e collaborazioni per poter fare percorsi quotidiani a tutti i livelli di età, quindi con le bambine e bambini, con gli adolescenti e con gli adulti per appunto avviare un percorso di rispetto e di cultura del rispetto tra i generi e anche una cultura del rapporto sano. E a proposito di Paricentro ci sono anche altre iniziative a livello internazionale come per esempio Orange of the World? Esatto, abbiamo deciso di patrocinare l'iniziativa proposta da Soroptimis di Fano, sempre comunque molto attiva nei confronti di queste tematiche e del territorio. Illumineremo quindi da oggi, vedete illuminati, l'arco d'agusto e il bastione sangallo di Arancione per aderire appunto a questa campagna di sensibilizzazione nei confronti del fenomeno a livello mondiale. Verranno poi proiettati dei video e delle brochure informative, verranno distribuite sull'argomento appunto a Paricentro, quindi dal 25 novembre al 10 dicembre saremo dentro la campagna Orange the World, ma le iniziative poi, alcune sono già iniziate qualche settimana, qualche giorno fa, le iniziative intorno alla giornata del 25. Altre proseguono, ci sarà un appuntamento molto importante il 2 dicembre al Paricentro per le bambine e per i bambini a cura di la Fondazione Evanda di Ferdinando e l'Africa Chiama, dove ci sarà la lettura animata di Beaver come Castoro, un testo a cura appunto di 7 e 9, la casa editrice di Cagli. Poi ci sarà uno spettacolo teatrale il 4 dicembre alla Sala Cubo di San Lazzaro, Lo specchio dei tempi, spettacolo teatrale dell'Associazione Giunone, che in quell'occasione appunto nell'occasione dello spettacolo farà anche una raccolta fondi per appunto sostenere le attività del Centro Antiviolenza. Chiudiamo Assessora con un messaggio da lanciare allora a tutte le donne, a tutto il pubblico femminile che ci segue da casa. Mi piacerebbe che le donne non si sentissero sole e spero che quello che stiamo facendo, anche se è insufficiente, si è percepito. Quindi vi chiedo di rivolgervi anche alle istituzioni in tutti i modi che potete per chiedere aiuto, anche se sono cose piccole, ma noi siamo a disposizione per questo. Ho scritto questa canzone contro la violenza sulle donne due anni fa e volevo appunto far sentire a tutti voi in questa giornata. Spero che vi piaccia, sentitela, farfalla senza ali, in buon ascolto. Zero rispetto, zero valore per quella creatura che è piena d'amore, quella creatura voluta dal Signore, disegnata nel massimo splendore. Piena di gioia, piena di intelligenza e come regalo si trova la violenza. È un fiore che viene piantato con cura, ma poi calpestato senza paura. E' un cuore che batte, ci porta energia. Guai A chi lo spazza via, a chi lo spazza mai più, un gesto passerà impunito, mai più, una bocca rimarrà chiusa mai più, una violenza passerà indifferente, la donna rinascerà splendente, mai più. Un gesto passerà impunito, mai più, una bocca rimarrà chiusa mai più, una violenza passerà indifferente, la donna rinascerà splendente. E allora facciamo sì che questo 25 novembre sia semplicemente una data simbolica perché la giornata contro ogni forma di violenza femminile e non solo venga celebrata ogni giorno. Cerchiamo di accendere i nostri cuori a questa campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione. Grazie per averci seguito e arrivederci. Per le ali che gli avete tagliato, per il corpo che avete sfruttato, io dico basta smettetela con questa storia, è complicato cancellare la memoria, ma qual è il divertimento? Scusate tanto, non è meglio vedere un sorriso invece di un pianto. E' un cuore che batte, ci porta energia, quai, a chi la spazza via, a chi lo spazza mai più, un gesto passerà impunito, mai più, una bocca rimarrà chiusa, mai più, una violenza passerà indifferente, la donna rinascerà splendente.